Buonasera a tutti, grazie dell'opportunità, grazie a Magna Carta e a Fondazione Riformismo e Libertà del Presidente Cicchitto per aver voluto dedicare a questi temi due mezze giornate, quella di oggi e quella di domani. Io intervengo rapidamente nei tempi assegnati per provare ad esprimere qui alcune riflessioni controcorrente nel senso che noi abbiamo ascoltato alcune tesi riguardo a quello che è avvenuto negli ultimi anni che contraddicono quello che le stesse persone avevano detto in quegli anni. E io credo che noi dobbiamo partire da un'analisi seria di quello che è successo per comprendere quello che ci aspetta e come meglio organizzare la nostra azione politica perché poi, citando il Monsignor Fisichella, noi dobbiamo cercare di eludere le sentinelle dell'effimero e se siamo qui è per cercare, per contrapunto, di alimentare un pensiero che poi precede un'azione che è un'azione tutta calata nella politica e nel tentativo di costruire un mondo migliore. Libia e il rapporto con gli Stati Uniti. In Libia alcuni di quelli che hanno parlato da questo podio erano, nello scontro di quelle ore, se intervenire o meno, naturalmente e secondo me molto correttamente, schierate perché l'Italia non si sottraesse agli impegni che la comunità internazionale avrebbe intrapreso. Il problema poteva essere se prima che la comunità internazionale prendesse quelle decisioni se incidere in maniera diversa. Non siamo stati partecipi e dovremmo chiederci perché non lo siamo stati allora e perché non lo siamo oggi. E' stato detto da quelli di noi anche che abbiamo decantato le primavere arabe, adesso che questa cosa è finita. Io credo che sia aperto un vaso di Pandora che è tutt'altro dall'essersi richiuso. Siamo credo tutti molto sollevati dal fatto che attualmente il regime in Egitto consente di avere una maggiore stabilità nell'aria. Ma credo che non saremmo onesti con noi stessi se pensassimo che questo regime ha di per sé le caratteristiche per durare a lungo. E' un altro regime che si basa su una leadership che naturalmente non è neanche più quella di Mubarak. E vengo alla caduta appunto di Mubarak, di Ben Ali e degli altri dittatori o degli altri regimi presenti nell'area del Mediterraneo e del Nord Africa. Sono caduti non per iniziativa degli americani o degli occidentali che pure hanno legittimato le proteste. Erano regimi che giungevano a una maturazione ed è un eufemismo del loro ciclo di vita normale. E quello che si è aperto è una partita dentro il mondo islamico che è frutto di 1400 anni di storia che sono dibattuti all'interno del mondo islamico. Sono stati raccontati prima da Pia Luisa Bianco e dal presidente Cicchitto come si confrontano e soprattutto si scontrano queste varie anime. Teniamo conto che in effetti al di là dell'avvenimento tragico dell'abbattimento delle torre gemelle anche Al-Qaeda è stata organizzata soprattutto Al-Qaeda Iraq con attentati autobombe e suicida nel territorio islamico e in quello appunto di Baghdad e dell'Iraq. Le stesse persecuzioni nei confronti dei cristiani avvengono molto prima. Provando a concludere senza fare un'analisi paese per paese vorrei dire che ci troviamo oggi in un quadro di profonda instabilità alle porte di casa nostra. Il ministro Lafano ha detto che noi dobbiamo ragionare come un unico occidente facendo in modo che l'Atlantico non ci divida. Questa è l'ambizione, naturalmente la realtà oggi è che le sponde dell'Atlantico si sono per certi versi forse persino allontanate. Lo sforzo da fare è avvicinarle, non è facile e dobbiamo sapere ed è interessante poterlo dire a Norcia che è la città di San Benedetto che è il patrono dell'Europa noi dobbiamo fare appello a noi stessi e all'Europa per non mancare l'appuntamento con la nostra responsabilità perché per noi è facilissimo accusare gli americani di fare tutti gli interventi più sbagliati del mondo e ogni volta dire che dovevano fare diversamente. Nel momento in cui si disimpegnano avendo trascorso gli ultimi 5-6 anni e dire che si sarebbero disimpegnati li accusiamo di essere irresponsabili. Io credo che noi dobbiamo fare la nostra parte. segnalo che probabilmente il fatto politico più significativo in queste settimane, in queste ore sono i colloqui di pace in Iran per il deal sul nucleare segnalo con rammarico che per esempio la testimonianza europea a quel tavolo è tuttora portata avanti da Catherine Ashton e non è stata evidentemente voluta la nostra Mogherini. Io penso che se negli Stati Uniti ci fosse stato un nuovo presidente con un nuovo segretario di Stato Kerry avrebbe lasciato lo spazio al nuovo segretario di Stato. Noi abbiamo un difetto che è tutto politico ed è questa la ragione per cui io voglio ancora una volta ringraziare Gietano Quagliarello e Fabrizio Cicchitto perché di questi temi più parliamo, più ci confrontiamo anche aspramente senza farci troppi complimenti e meglio è per tutti noi. Grazie davvero per l'ascolto. Grazie.